Ciao a tutti, oggi parleremo di un fattore importante che molti mi chiedono, molti mi fanno delle domande in questo senso, cioè i pesi, i pesi sull'arco, quanto deve essere pesante un arco nudo, dove si devono mettere i pesi, a cosa servono i pesi, cosa succede con un arco pesato e un arco leggero? Allora innanzitutto, a mio parere, i pesi sull'arco non servono molto, molto spesso si sente dire ma il mio arco scalcia quindi lo devo pesantire, lo vedo scalciare, l'arco non deve scalciare perché se scalcia è male, quindi devo mettere dei pesi affinché l'arco non scalci. Secondo me è assolutamente sbagliato, i pesi sull'arco servono per rendere stabile il tiro, per rendere stabile il tiro, per l'ancoraggio e rilascio, essere stabili in quel momento lì, in quel momento lì non devo provocare torsioni, l'arco deve essere stabile, il tiro deve essere comodo e il peso mi serve a che l'arco scalci o non scalci perché anche se non metto peso molti archi non scalciano. Detto questo, la cosa più importante di tutto ovviamente è la mano dell'arco, la mano dell'arco deve essere posizionata nel modo giusto, cioè il punto di spinta, in allineamento sul piano verticale con l'osso radio, l'osso homero eccetera eccetera, cose che abbiamo già visto e stravisto e ovviamente non deve provocare torsioni e il polso si deve rilassare all'istante. Vediamolo brevemente. Andiamo in ancoraggio, allineamento, mano dell'arco rilassata, completamente rilassata, ancoraggio, mira, rilascio e questa è la mano dell'arco. anche con una mira di pochi secondi, allineamento, proviamo anche senza dragona perché non è detto che sia la dragona che vi fa rilassare bene il polso, anche senza dragona il polso si deve rilassare, si deve rilassare non in modo così come abbiamo visto nei tiri precedenti ma si deve comunque rilassare. Lo vediamo, sempre allineamento, ancoraggio, vedete che questa parte si è comunque rilassata all'istante, non è necessaria la dragona, la dragona non è è un accessorio di sicurezza, non è un accessorio che è obbligatorio avere se non vai, se noi sappiamo rilassare bene il polso lo possiamo fare anche se dobbiamo. Lo riproviamo, ora abbiamo visto con quest'arco, quest'arco non ha grandi pesi, pesa circa 1,4 kg, 1,4 kg, 1,4 kg e questi pesi sono posizionati, diciamo che vedo tanti che mettono pesi qua nella parte bassa, non è necessario, i pesi devono stabilizzare nel punto di spinta, quindi se sono nella parte bassa, a mio potesto parere, non servono molto anzi. Vediamo velocemente un altro arco, questo è un arco economico, l'arco più economico che c'è e praticamente vedete che non è questo, questo è il punto di perno, quindi quello che c'è di peggio possibile di scalciamento, non ha nessun peso e vediamo un po' cosa succede a tirare. Proviamo prima con la dragona, brevemente, e proviamo a tirare. la telletta, questa serve sempre. allenamento, ancoraggio, ha scalciato, forse sì, ma vi assicuro che non è un grosso problema, anzi, la cosa più importante è la tecnica. Riproviamo. Proviamo anche con questo senza dragona, così vediamo il movimento. Certo, leggero così è più difficile da recuperarlo, però noi possiamo tranquillamente avvolgere le dita, ovviamente rilassate, ancoraggio e il polso comunque si rilassa all'istante e anche senza dragona tutto funziona a meraviglia. Quindi i pesi servono per stabilizzare l'arco dall'ancoraggio e la rilascio. Se scalcio leggermente non facciamocene un dramma. L'importante è che rilassiamo il polso una volta rilassata la tutto qua, tutto qua. L'importante è che ci alleniamo a fare questo movimento, questo movimento qua, semplicemente anche senza dragona, vedete, questo è il movimento da fare. Dobbiamo solo allenarli. Alla paglia, alla paglia non si fa solo ginnastica, ma si inseriscono questo metodo per poter rilassare il polso e non avere più nessun problema di pesi, scalci dell'arco, eccetera, eccetera. Così abbiamo eliminato un problema. Comunque il peso è importante, è importante, però quando siamo qua. Quando siamo qua, il peso dell'arco ci deve dare qualcosa in più. Una volta affinata la tecnica di base. Sempre prima la tecnica di base. Sempre prima i fondamentali. Grazie.